Mi presento, sono la dottoressa Michela Centrone e mi occupo di medicina estetica. Mi sono laureata presso l'Università di Bologna e ho seguito successivamente diversi corsi e master di medicina estetica. Ho scelto la medicina estetica in quanto mi piace conciliare la medicina con la bellezza per rendere felice le persone. Essendo una donna credo di saper cogliere al meglio le richieste e le esigenze che mi vengono fatte dalle pazienti. I trattamenti di medicina estetica non sono dolorosi. Vengono effettuati utilizzando degli anestetici sotto forma di creme e utilizzando degli aghi molto molto sottili. Per cui è minimamente invasivo come trattamento e non è doloroso. Ho scelto di collaborare con la Clinique in quanto mi posso concentrare al meglio sul mio lavoro lasciando a chi di dovere la parte amministrativa e organizzativa.